Amici di Radio Bruno, che felicità! C'è Anna-Lisa con noi! Eccoci, ciao a tutti! La canzone è strepitosa e tu sul palco, è incredibile, non ci sono parole per descriverti. Ma io ti ringrazio tantissimo e io ho fatto del mio meglio ieri sera e spero di riuscire a continuare così e magari aggiungere anche qualcosa in queste serate. Vogliamo parlare un pochino della canzone, vogliamo raccontarla agli amici di Radio Bruno? Allora, sì, la canzone, sinceramente, è una canzone a cui io tengo molto perché parla di libertà, parla di sentirsi e anche lasciare, no? Quindi è una cosa ovviamente reciproca, liberi di essere come ci si sente a seconda delle situazioni che si attraversano, no? E quindi liberi di essere sopra le righe a volte, liberi di essere, non lo so, anche tristi se vuoi, liberi di lamentarsi. Cioè, in ogni caso la cosa fondamentale è la comprensione, no? E' una cosa che chiaramente io sento molto, lo sento dal punto di vista femminile, quindi è anche un po' un, come dire, spero che possa essere un bel messaggio per il mondo femminile, ma un po' per tutti, ecco. Un messaggio stupendo di una donna libera che può fare le cose senza dover tener conto di nessun pregiudizio, di nessuna, insomma, idea, preconcetto. Quella è l'idea che tu dai sempre nelle tue canzoni di noi donne. Esatto, è quello che provo a fare e sono felice quando arriva, quindi ti ringrazio molto. Ma possiamo dire che comunque noi di Radio Bruno qui a Sanremo abbiamo seguito tutti i tuoi step, tutte le tue performance. C'è stato a un certo punto che hai, non so se si è cambiato qualcosa nella tua vita, oppure il modo di vedere la musica, hai scelto un percorso che poi ha decretato tutte le hit dell'ultimo periodo. Ma, allora, io... è successo qualcosa in studio, la verità è questa, nel senso che da Bellissima in poi c'è stato un click, no? Perché comunque io ho fatto uno sforzo, no? Ho cercato di pensare a... dove sono forte io? Quali sono le mie... qual è la mia passione? Che cosa c'è nella musica che può essere qualcosa che è solo mio, comunque che mi rappresenta più di altri, no? E queste cose alla fine sono le sonorità, io amo le sonorità elettropop, quindi comunque anche anni Ottanta, e poi amo la canzone italiana, no? E quindi le parole, io ho questo amore per le parole enorme, e mi piace riuscire a usarle nelle canzoni anche apparentemente leggere per far arrivare dei messaggi, no? Quindi questo sicuramente, poi c'è la voce, comunque l'uso della voce è la melodia italiana. Quindi ho cercato di mischiare queste cose e probabilmente quello è stato il click, no? Il fatto di aver trovato un equilibrio tra questi elementi che a me sono così cari. Un equilibrio che piace non soltanto al pubblico che ti adora, tutto il mondo dei social, ma anche la giuria, perché ieri sera ti ha premiato. Guarda, sono contentissima di questo e ne approfitto, mando un grazie, sono felice e spero di andare avanti così, insomma. A proposito di estensione vocale pazzesca di Annalisa, andiamo il venerdì, dove insieme alla rappresentante di lista ci farai venire, non so, quanti brividi con l'esibizione, con la cover che avete scelto. Io, guarda, non vedo l'ora, perché ovviamente amo tantissimo il pezzo che ho scelto, insomma, se no non l'avrei scelto. E' un'occasione anche per divertirsi, perché abbiamo pensato una versione tutta nostra e non vedo l'ora di farvela sentire. Abbiamo lavorato con la rappresentante di lista in studio, tra l'altro loro sono veramente fantastici. E abbiamo anche questo coro meraviglioso, queste 25 donne che canteranno con noi e non vedo l'ora. Non vediamo l'ora, ricordiamolo, insomma, un omaggio agli Eurythmics, Sweet Dreams. Esatto, l'ho dato per scontato? L'ho forse dato per scontato? Ma anch'io forse nella domanda, da tanto che non vedo l'ora di ascoltarlo e di vederlo. Sweet Dreams, esattamente, lei, proprio lei. Quindi è una canzone che tu hai scelto perché proprio ti piace, ti piacciono quelle sonorità anche? Sì, ho cercato appunto di rimanere in tema, no, con un po' con tutto il mio progetto. Io comunque ho cercato anche di ispirarmi a quei mondi, lo dico con molta umiltà e quindi per me questa è la canzone, è la hit. Cioè se c'è una canzone che veramente ha buttato giù tutte le barriere, no, tante canzoni l'hanno fatto, però questa sicuramente l'ha fatto ed è una delle mie preferite. E dopo Sanremo invece che cosa succederà? Dopo Sanremo ci sono un sacco di concerti, ma veramente tantissimi, infatti io sono in tour ad aprile nei Palasport d'Italia, poi ho l'Arena di Verona che è la mia prima arena e quindi l'aspetto con tantissima felicità e poi quest'estate ho anche i festival più importanti in giro per l'Italia e sono molto impegnata e anche contenta di esserlo. Ti aspetteremo, lo so che non ne vuoi parlare, però guarda che la tua canzone, il tuo show, lo vedo proprio perfetto per l'Eurovision Song Contest, te lo volevo dire. Io ti ringrazio tanto, è un bellissimo complimento, ti ringrazio. E qua chiudo. Chiudiamo. No, invece volevo chiudere con questo, tanti hanno detto di aver visto un omaggio anche a Raffaella Carra, può essere a quel mondo? Assolutamente, sì, comunque io mi ispiro e quindi a me piace moltissimo questo concetto e lei era forse quella che lo incarnava meglio, il fatto di usare le canzoni apparentemente divertenti ma anche davvero divertenti e però dentro c'è sempre un qualcosa che sposta, che sposta l'immaginario comune, qualcosa che ti fa fare un passo avanti verso appunto forse proprio la libertà. E quindi per me questa è sicuramente una grandissima ispirazione. Grazie mille, veramente. Di cuore ad Anna Lisa. Grazie a te, grazie a voi. Grazie a te, grazie a te.